Matteo Renzi, buongiorno. Ha scritto un libro, Il Mostro, inchieste, scandali e dossier, come provano a distruggerti l'immagine. Buongiorno anche a David Parenzo, che stava bevendo un bicchier d'acqua, che io ho interrotto. Buongiorno David, prego, 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 è acqua. Insomma, questo dobbiamo verificarlo. Però con Matteo Renzi io volevo partire da questa situazione, dalla telefonata di Draghi. Draghi ha detto due cose, ho provato, ho sentito il dovere di sbloccare la situazione di una crisi alimentare globale che si sta avvicinando e dall'altra parte però ha detto sinceramente non ci sono spiragli di pace. Però Draghi ha fatto benissimo, cioè un leader, uno statista fa così. Perché da un lato noi stiamo sostenendo l'Ucraina perché la Russia non faccia con l'Ucraina ciò che ha già fatto nell'Unione Sovietica, nel 1956, in Ungheria, nel 1968, in Cecoslovacchia, eccetera, eccetera. Dall'altro però bisogna dialogare per la pace. Cioè il fatto che noi non siamo neutrali non significa che l'Italia e l'Europa non debba toccare palla. Allora in questo senso penso che Draghi abbia fatto molto bene. Draghi è uno statista, non è un leader che cerca giorno dopo giorno di dire le cose che piacciono alla gente che non segue i sondaggi, quindi bene Draghi, e sta provando un negoziato che dovrebbe fare l'Unione Europea. E io dico anche un inviato speciale dell'Unione Europea o della Nato, ho detto la Merkel, va bene Tony Blair, va bene uno autorevole che fa questo lavoro qui, chiama Putin, poi chiama Zelensky. Quindi questa è la diplomazia. Se quelli che devono fare i diplomatici attaccano i leader o comunque i presidenti che sono parte in causa e non aiutano, cioè tu vai al bar e dici penso che il presidente della Russia sia un delinquente, penso che il presidente dell'Ucraina sbagli. Al bar uno può dire quello che vuole. In diplomazia no, quindi bene Draghi e penso che il motivo scatenante della prima iniziativa che egli ha preso sia grande. Qui stiamo rischiando veramente l'osso del collo con la carestia, cioè noi probabilmente no, ma noi pagheremo le conseguenze. Come? Se tu hai paesi africani nei quali non arriva più da mangiare e che già quando arrivano, stanno a un livello di alimentazione molto bassa, se poi non gli arriva neanche il grano, vanno sotto la soglia di sussistenza. Cosa fai tu che stai nel Mali, in Nigeria, in paesi in cui fai fatica a trovare da mangiare? E migri. Se migri, non è che dici vabbè io sto, vediamo perché ci sono i trafficanti e ho paura di andare nel deserto. Se non stai mangiando, prima di morire di fame, vedi i tuoi figli che morono di fame, scappi. Già abbiamo un grande flusso di migranti dall'Ucraina e viva il terzo settore, viva le scuole che stanno accogliendo i bambini, li stanno portando nelle classi, che cosa meravigliosa. Se a questo si somma una migrazione storica che noi abbiamo dal Mediterraneo e che può avere un'ondata pari o superiore a quella degli ucraini, ad esempio noi sull'immigrazione abbiamo una grande, grande, grande emergenza. È soltanto uno degli argomenti, energia, innovazione. A me è incuriosito una cosa che ha detto adesso il senatore Renzi sul fatto della mancanza di diplomazia. Cioè lei dice sostanzialmente l'Europa, anche Borrell, Borrell e Stoltenberg per parlare di Nato e di Unione Europea, mi pare di aver capito dalle sue parole che non hanno fatto abbastanza sul fondo diplomatico, cioè hanno usato parole troppo dure. È una posizione, la sua, quella che apprendo oggi, molto simile a quella di Santoro, di Salvini. Meno male che è seduto. Io sono seduto da un lato e lei mi deve far vedere se è acqua o se è la grappa quella, parezza, lo dica la mattina. No, però dire che l'Europa, questo è interessante perché dire che oggi, può essere che lei abbia ragione, però l'Europa non ha messo in campo anche nei toni un'azione diplomatica. Borrell ha preso una posizione che invece anche negli Stati Uniti è stata molto lodata, molto netta, quindi sta sbagliando Borrell. Al netto del paragone con Salvini e Santoro, su cui chiedo poi la prova varia del bicchiere, di cosa c'è dentro il bicchiere, io dal 24 febbraio, a differenza di tanti altri, dal giorno quindi dell'invasione, a differenza di tanti altri, ho sempre detto sì alle armi in Ucraina, sì alle sanzioni, io mi sono dimesso da un consiglio di amministrazione. Ho sempre detto che bisogna essere non neutrali, quelli che dicono noi siamo pacifisti, ho attaccato Lampi che aveva fatto una dichiarazione allucinante, quindi la mia posizione è netta. Però siccome ho fatto politica a livelli di governo, so come funzionano queste cose, tu non puoi pensare che la pace arrivi da sé. Far finire una guerra è la cosa più complessa che c'è, l'unico modo per farla finire bene è non iniziarla, perché quando parti è un casino. E allora a quel punto ci vuole quello che tiene una posizione giusta, rigorosa, seria sulle sanzioni, ma dall'altro lato ci vuole quello che dialoga. Faccio un esempio ora, tanto la mattina presto e penso che non si è fatto, perché l'Unione Europea ha pensato di fare soltanto, e anche alcune all'inizio, anche la diplomazia italiana, quando Di Maio va e dice Putin è un mostro, sbaglia, perché il diplomatico non fa questo. Vi ricordate la crisi dei missili del 1962? Non c'eravamo, nessuno di noi era nato. Ma la crisi dei missili del 1962 è stato il momento nella storia dell'umanità in cui siamo andati più vicini a una crisi nucleare, a Cuba. Nell'amministrazione Kennedy c'erano due partiti. Quello che voleva la guerra nucleare, per colpa dei russi, la colpa dei russi era di Khrushchev, e quello che voleva dialogare. Nel giorno decisivo arrivarono due telex agli americani, dai russi, dai sovietici. Uno che diceva non leveremo mai i missili, e uno che diceva siamo pronti a negoziare. Bob Kennedy, che era allora ministro e fratello del presidente, nascose quello in cui si diceva non toglieremo mai i missili, perché la diplomazia deve dargli una chance. Allora, questo è l'atteggiamento. A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti. Chi? Giuseppe Conte. È l'uomo che ha dato più armi di tutti a tutti, perché quando lui era premier le armi hanno visto crescere profondamente il livello, e oggi fa il pacifista per i sondaggi. Veniamo alla giustizia. Quelli che sono i sondaggi mi fanno venire l'orticaria. A proposito di sondaggi, c'è un sondaggio shock sul giornale, apre su questo oggi il giornale. L'Italia non si fida della giustizia, due cittadini su tre non credono nelle toghe, il 25% addirittura non denuncia. Poi naturalmente, ecco perché serve il referendum, si vota il 12 di giugno sui cinque referendum sulla giustizia, però tutti danno per scontato che non ci sarà neanche il quorum, che sono quesiti molto tecnici, e che insomma non servono. Questa è l'impressione che si ha ad oggi. Lo chiedo al mostro. Non è che non servono, il problema è che i quesiti che erano più capaci di attirare affluenza sono stati cancellati. Ragazzi, piaccia o non piaccia, casualmente o no, il dato di fatto è che eutanasia e cannabis che toccavano milioni di persone non sono andati, non hanno sfruttato il vaglio, e l'altro è la responsabilità civile. Allora, io mi vergogno quasi in sua presenza di parlare di giustizia giusta oggi, perché lei sa per motivi familiari che questa vicenda è una vicenda che non nasce né ora né con Tangentopoli, perché nasce da prima, nasce da molto prima. Il punto fondamentale della giustizia giusta, secondo me, è duplice, banale. Il primo, se io sbaglio, se io un magistrato sbaglio, devo pagare. Perché quando accade che un magistrato, un inquirente, che mette in carcere un uomo innocente, e gli fa passare le pene dell'inferno, poi va al CSM e viene premiato, ragazzi, questa cosa non può esistere. Però io le devo fare una domanda. Lei è stata al governo e ha fatto qualcosina, anche sulla responsabilità civile. Non è quello che avrebbe voluto fare? Avrebbe voluto fare di più? Ne avevamo anche parlato. Perché non è riuscito a fare di più? Ce lo può raccontare oggi? Io lo scrivo anche nel libro. Diciamo una cosa così, che almeno chiariamo, il libro non parla delle mie vicende giudiziarie. A differenza di quello che tutti pensano, non è il racconto delle mie vicende giudiziarie. C'è una parte che riguarda... No, no, sono soltanto citate, soprattutto nel caso mio, essendo arrivate cinque sentenze della Corte di Cassazione, cinque, che hanno di fatto detto che i giudici di Firenze stavano sbagliando, per quello che riguarda il mio processo, lo farò con le argomentazioni della Corte di Cassazione. E soprattutto è un processo che sono talmente bagatellare che non interessa, secondo me, a nessuno. Andiamo su quello che c'è nel libro e sulla sua domanda. Il libro racconta una serie di stranezze che riguardano determinati magistrati, determinati PM, che non cito per le vicende della famiglia Renzi, ma cito per un uomo violento che non viene arrestato dalla Procura di Firenze nonostante che i carabinieri chiedano di arrestare e che uccide il figlio. Perché? Perché quei magistrati decidono di non ascoltare, non Renzi, Tortola, Parenzo, i carabinieri. Ci sono le vicende legate a Davide Rossi a Siena, ci sono degli strani interrogatori notturni, ci sono i servizi segreti Banca d'Italia, Consob, Trivelli, le fake news di Putin, tutto. Dopodiché c'è un punto mio, più politico, in cui da un lato racconto ciò che è successo sul Quirinale e d'altro e va bene. Dall'altro dico che io dovevo fare di più. Perché non ci ha riuscito? Cos'è che gliel'ha impedito? Quando io sono arrivato a fare il presidente del Consiglio nel 2014, una delle cose che più sconvolse l'opinione pubblica è che noi andammo in Parlamento a dire che un sottosegretario, un parlamentare indagato, non doveva dimettersi. questo per dire che tipo di clima c'era. noi approvamo la responsabilità civile dei magistrati che è un primo pezzo, ma assolutamente all'acqua di rose rispetto a quello che serve, ma fu visto come una sorta di ferita che noi in qualche modo andavamo a infliggere alla magistratura. il punto vero è che le correnti sono state più forti di me e io ho fatto un errore invece politico tutto mio, che devo ribadire, che io partivo dal presupposto, mi lasci dire, un po' ingenuo, che per me è anche quasi un po' naif, forse più naif che ingenuo, in cui dicevo male non fare, paura non avere. Il detto della nonna, io so che non ho fatto niente di male. Cioè a me, quando mi dicono finanziamento, siccome io so che non l'ho fatto, io sono tranquillissimo. Quindi le correnti le non ho fatto. Però le correnti, eh sì, nel libro racconto come Palamara, che allora era il capo delle correnti, e poi ci siamo ritrovati su fronti diversi, ma ci siamo ritrovati, dice lui che era il capo delle correnti e che ne ha viste di tutti i colori e che ne ha fatte, che ha concorso a farne di tutti i colori, dice nel libro. Io le ho viste di tutti i colori, ma una sparatoria, lui utilizza la parola sparatoria, nel suo libro, io lo cito, come quella contro Renzi non l'ho mai vista. Perché poi chi legge il libro forse non cambia idea su di me, ma cambia idea su quello che è successo in Italia. Da degli strani autogrill a delle vicende legate ai servizi, ah, le lascio dire dei nomi cambiati. Lei da una parte dice, io forse in modo naif non avevo calcolato il peso delle correnti, no? Non avevo pensato che se sei innocente non devi aver paura. Dall'altra parte però queste correnti in qualche modo ha contribuito anche lei, no? Perché quando viene eletto Ermini, insomma, non è che è proprio così naif. Come pure Legnini, perché io ho più ruolo su Legnini. Cioè, Legnini, tutti mi fanno la parte di quelli che fanno gli splendidi dicendo non c'erano le correnti prima. allora Legnini è stato scelto a Palazzo Chigi. Cioè, io non ero in quella riunione. Ma le posso dire chi c'era chiaramente. Perché c'era l'allora capogruppo del PD, Roberto Speranza. Quindi lo vede che non è naif? No, ma... Mi perdoni, è una cosa un po' diversa. Il giudizio naif è non essere stato in grado di capire che non è vero che male non fare paura non avere. Questo è l'allora di un elemento naif. Sul resto, figuriamoci, io le scrivo nel libro, a me non me la raccontano. Il mio essere ingenuo è legato alla mia vicenda personale. Al punto di vista politico posso dire tutto, per anni che di essere ingenuo. A me quando mi fanno i racconti, ma io le faccio l'elenco di chi faceva le cene a Roma sulle questioni della giustizia. Perché tanti di quei belli imbusti che adesso fanno finta di dire niente erano le cene. Il problema non sono tutte le cene. non sono le cene. E' proprio il sistema, ma qui basterebbe ritornare agli anni in cui Pannella, voglio dire, stiamo riportando indietro il dibattito agli anni in cui Pannella parlava della cupola partitocratica della Corte Costituzionale. I famosi referendum sulla giustizia risalgono agli anni 80 ormai. Cioè, la riforma del CSM. Qui c'è qualcuno che dovrebbe sapere di chi si parla. sono tutte questioni che sappiamo. Quindi forse lo scandalo non è tanto che appunto Ermini, Legnini, perché quando viene attribuito alla politica una funzione, cioè quella di nominare delle persone, è evidente che poi si arriva al sistema. Scusi Parenzo, scusi, scusi, scusi. Basta avere la consapevolezza. Questo è il punto fondamentale. Mi pare questo il punto. Il punto, io non dico che la politica non debba fare le scelte, attenzione. Però se si fanno le scelte è inevitabile che poi accadano. Cioè non fare la parte di quelli che raccontano in modo ipocrita che se la scelta la fai tu è partitocrazia, se la faccio io è meritocrazia. Cioè in altri termini. L'elemento chiave di sta vicenda è dire una cosa semplice. Uno, quello che è accaduto in questi anni ha bisogno di una riscrittura storica. A me non interessa per l'attualità. Perché io per l'attualità dico una cosa totalmente diversa. Dico, il magistrato va avanti se è bravo. Ci sono migliaia di magistrati bravi. Il punto è sei bravo, vai avanti. Mandi in carcere un innocente e anziché prendere atto vai avanti, insisti, cerchi gli accordi per tenercelo dentro, non vai al CSM o non vieni promosso per criteri di anzianità. Su questo punto bisogna slegare dall'appartenenza alle correnti. Poi c'è un punto che riguarda me. Perché io sono diventato il mostro? Scusate, se una corrente facciamo nome e cognome magistratura democratica scrive nella sua rivista Renzi deve avere intorno a sé un cordone sanitario ora ragazzi io nel libro scrivo sono una persona felice non sono una vittima sono contento della mia vita mi hanno sempre fermato magari è un'opinione un po' grossier è assolutamente sbagliata ovviamente però non è che poi cordone sanitario? Sì, è un'opinione assolutamente censurabile No, no, no Parenza scusi su questo io non sono d'accordo facciamo conto che lei è un magistrato ed è iscritto a magistratura democratica e sa che la capo adesso mi corre la tortura che Gaia Tortura è la capo della corrente e dice che intorno a Renzi ma mettete Renzi mettete Mario Rossi va stretto un cordone sanitario casualmente a lei arriva l'indagine su Mario Rossi che fa che la sua capa dice tu fai carriera se stai con magistratura democratica vale per le altre correnti è assolutamente così il concetto è che levate il nome Matteo Renzi talvolta in questo paese bisognerebbe togliere non personalizzare mettete MR Mario Rossi leggete questo libro quando è finito il libro vedendo quello che è successo a Mario Rossi rispetto ad altre dinamiche e vi prende male e fin qui ci siamo e io però sempre che dico sono fortunato posso andare in televisione a rispondere non ho problemi a pagarmi gli avvocati assolutamente sì togliamo il nome Matteo Renzi che comunque è stato al governo e ci mettiamo il nome di Marta Cartabia è stata una delusione per lei la riforma Cartabia perché ho visto che ha cambiato diciamo così opinione rispetto all'inizio adesso che ha detto che è inutile beh però come sempre si deve decidere da che parte si parte cioè il bicchiere questo bicchiere è mezzo pieno c'erano tante aspettative su questa riforma c'era buona fede prima quindi rispetto a buona fede prima anche come dire Godzilla avrebbe segnato un passo in avanti buona fede è stato e lo scrivo nel libro l'uomo che non soltanto ha confuso garantismo e giustizialismo dicendo che sono entrambi gli ismi non soltanto è andato in tv a dire che è normale che gli innocenti vadano in carcere cioè una roba che te lo prendi e come dire non reagisci benissimo ma buona fede è stato anche l'uomo che ad esempio sulle carceri ha messo direttore del DAP a proposito di puntini che si uniscono un signore che aveva l'unico pregio di aver messo sotto inchiesta il governo Renzi non fisicamente i ministri perché nessun ministro fu indagato ma l'azione del governo la famosa vicenda a tempo a russa bene questo buona fede era un disastro era dannoso è arrivata la cartabia e io speravo fosse utile è stata inutile inutile non è una bella cosa ma è meglio di dannoso dipende da dove parti ma forse è un problema della maggioranza però adesso non per difendere assolutamente nessuno ma c'è un problema di una maggioranza interogenea nel senso che come dire anche per motivi pre-politici e credo che sia stata una buona presidente della corte costituzionale le riforme che ha proposto sono riforme che non cambiano i punti che abbiamo detto quali sono i problemi? alcune sono state anacquate però dal fatto che la maggioranza alcune di quelle cose non le avrebbe votate non sono arrivate nell'ufficio della cartabia ci sono fiori di magistrati che detengono il potere perché diciamo le cose come stanno la separazione tra la politica e la magistratura non è che un politico non deve farle cene con i magistrati quello sono fatti loro io non le faccio ma sono fatti loro è che negli uffici del ministro di grazia e giustizia vi sono spesso dei magistrati c'erano anche con me il capo di gabinetto si chiamava Melillo sono distaccati che decidono scrivono fisicamente le leggi in alcune riunioni di maggioranza i testi portati dal ministro cartabia erano chiaramente testi scritti da magistrati che non volevano fare i due punti i due punti è semplice chi ci ascolta da casa lo capisce molto meglio di me è molto più intelligente di me uno la tua carriera dipende non dalla corrente a cui sei iscritto ma dal fatto se sei bravo o no questo vogliamo dirlo ai magistrati che ci seguono da casa sei bravo vai avanti non importa se non dico che non devi arrestare la gente anzi nel libro scrivo che la vergogna della procura di Firenze non è aver arrestato sbagliando i miei genitori è non aver arrestato il signor patriarti che poi ha ucciso suo figlio io racconto storie di questo genere nel libro non racconto barzelletti i magistrati vanno avanti se sono bravi a b il magistrato che sbaglia paga perché non è pensabile lei oggi prende e fa un errore io faccio un errore un medico fa un errore un insegnante fa un errore pagano tutti un operaio fa un errore paga il magistrato c'ha sempre quindi lei dice questa riforma è inutile e non fate nulla per cambiarla noi presentiamo gli emendamenti andiamo sotto e la riforma andrà avanti ma non è dannosa lei dice ma lei si accontenta e ragazzi è un compromesso ma non è che chi si accontenta gode ma se penso a dove stavo prima io penso che aver tolto Conte e messo Draghi resterà per sempre nel mio curriculum come una cosa positiva dall'altro lato alcuni ministri abbiamo migliorato con alcuni ministri con altri siamo rimasti uguali Cartabia al posto di Buonafede ha migliorato molto però non risolve i problemi della giustizia cioè ci sono degli argomenti in questo paese che dovranno fatalmente essere affrontati ahimè la prossima legislatura il primo tanto ora mi prendono tutti in giro chiederanno se c'ho la grappa io le riforme costituzionali tanto alla fine se ne accorgeranno che il problema è che finché non c'è un sistema di democrazia cioè noi diciamo che andiamo a difendere la democrazia ragazzi abbiamo cambiato tre governi e io ne so qualcosa in questa legislatura siamo partiti dal governo più anti-europeista dell'Europa al governo guidato dal presidente della banca centrale europea nella stessa legislatura con gli stessi che votano a favore senta perché c'è sempre questa R al contrario il mostro era controcorrente anche il precedente c'è sempre l'R è l'R di rovesciata perché dobbiamo ritornare ad essere rottamatori rovesciare le cose che non vanno lei non ha rottamato però un granché un granché lo dice lei se sono diventato il mostro è perché ho cercato di rottamare anche troppo poi qualcosa ho rottamato dopo il referendum hanno iniziato a rottamare ma questa è un'altra storia il concetto è che ma adesso cosa vuole rottamare ad esempio io penso che adesso ci vogliano tre grandi cose immediate la prima è cambiare il a proposito di R rovesciare le regole sul lavoro il reddito di cittadinanza è una vergogna referendum è una vergogna sì raccoglieremo le firme ma le firme diciamo arriveranno poi si voterà nel 2024 il punto è fare una battaglia educativa e culturale oggi cioè possibile che la gente prenda i soldi per non lavorare e il ministro leghista del turismo scriva voglio un decreto flussi per avere 350.000 nuovi immigrati perché questa se la racconti ti metti a ridere il ministro leghista chiede di avere 350.000 immigrati perché perché non ha lavoratori nel settore del turismo allora tu stai pagando un milione di persone per stare a casa senza fare niente e devi prendere 350.000 persone dall'estero facendole venire in modo regolare il reddito di cittadinanza non è una misura contro la povertà la misura contro la povertà è creare un lavoro e farlo pagare bene c'è due parti una non ha funzionato quella del lavoro l'altra di sostegno economico il sostegno economico c'era il rei ma il concetto è che Di Maio e gli altri Conte e Salvini hanno fatto passare il messaggio che avrebbero abolito la povertà quando li ho visti affacciati su quel terrazzo fossi stato ancora a Palazzo Chigi avrei chiuso il terrazzo avrei chiamato il trattamento sanitario obbligatorio immediato ma come si fa a dire che la povertà si combatte per questo dopo ne parleremo anche di reddito a me impensierisce molto il fatto che il 25% non denuncia neppure vuol dire che c'è una sfiducia totale hanno paura lo sai perché io faccio questa battaglia hanno paura oppure pensano che non serva a nulla hanno paura tutte e due sa perché io faccio questa battaglia perché alla fine riparlare di queste cose a me non fa bene perché io dovrei stare sugli argomenti hai detto io non mi sento una vittima sono felice ed è vero ed è la verità perché io ho vissuto delle ingiustizie secondo me ma niente rispetto alle vere ingiustizie di questi anni quindi come dire anche lì paragonati con gli altri perché ho scelto di fare questa roba qui dopo 5 sentenze della Cassazione a nostro favore perché potevo starmene lì aspettare che tra 1, 2, 5 anni la vicenda open finisca come finirà lo sanno tutti e a quel punto poi venire qui e dire mi hanno indagato ingiustamente mi hanno sporcato l'immagine perché riprendo questo argomento adesso non per me ma io voglio farlo per quelli che non hanno la possibilità di avere un microfono o di avere una telecamera voglio far capire il messaggio che lo hanno fatto con me che sono come dire una persona politicamente con un ruolo ma che comunque è per una cosa bagatellare lei sa non voglio riparlarne cosa è successo ad altre famiglie ma guardi qui ci stiamo tutti riempiendo la bocca del trentesimo anniversario di Capace e di Via D'Amedio allora siccome io sono uno di quelli che pensa che Falcone e Borsellino siano davvero i martiri di questo paese che se c'è oggi una prospettiva di legalità lo si deve innanzitutto al sacrificio loro di Francesca Morvillo di Emanuela Loy che era una poliziotta che stava con la scorta di Borsellino degli uomini di Borsellino però Falcone è stato combattuto all'interno della magistratura Falcone e Borsellino tutti e due attenzione attenzione non è stata la politica a combattere Falcone è l'ora di finirla 30 anni di ricostruzioni anche giornalistiche oltre che politiche hanno fatto pensare che ci fosse uno Stato nello Stato che combatteva i magistrati e che i politici erano cattivi e i magistrati buoni Giovanni Falcone che è stato un gigante a cui tutti dobbiamo tutto è stato combattuto dalla dalle correnti giudiziarie dai propri colleghi c'è un membro del CSM scriveva sull'unità in quegli anni in quei mesi che Falcone apro le virgolette non aveva l'indipendenza per guidare la lotta contro la mafia ragazzi ma vi rendete conto che cosa gli hanno detto scusi e Borsellino quando Fiammetta e i fratelli continua a chiedere giustizia per Paolo Borsellino sta dicendo una cosa che noi facciamo finta di non capire Paolo Borsellino che io ricordo capo scout io ho fatto giurisprudenza perché l'ho scelta in quell'estate di fare giurisprudenza nel mio ovviamente piccolissimo Paolo Borsellino me lo ricordo quando parlò agli scout nel giugno del 1992 avevo 17 anni tra la morte di Falcone e ahimè Via D'Amelio quando Fiammetta Borsellino dice che lo Stato è colpevole perché ha infangato la memoria di Paolo Borsellino non garantendogli neanche un processo giusto hanno fatto un processo farsa hanno creduto a un finto pentito è un'operazione di depistaggio la mafia si è presa della memoria di Paolo Borsellino per colpa di chi di quei colleghi magistrati che non hanno capito che quello non era un pentito credibile con qualche sponda politica la ricostruzione ci sta però anche con qualche sponda politica anni di racconto monocorde ha fatto pensare che fosse colpa della politica allora io non sono uno che è mai stato socialista ma Claudio Martelli che era il ministro della giustizia si 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 e lo portò a lavorare con sé a Roma questo è chiaro e la giustizia si attaccarono Martelli e Falcone devo farle ancora una domanda politica riguardo alla Sicilia intanto da una parte il laboratorio Sicilia PD 5 Stelle primaria ma cosa fa Italia Viva in Sicilia che succede con il candidato noi non appoggiamo il candidato della destra come tutti dicono della destra ma era anche di Faraone all'inizio questioni amministrative l'allargo e vengo a Palermo rapidissimo amministrative io penso che un partito come il nostro che ha fatto la differenza sul governo nazionale per le vicende che sappiamo debba scegliere sui territori i più bravi cioè non debba inseguire una appartenenza ideologica sul comune poi nel 2023 è un altro film dovremo fare una scelta di campo ma in comune scegli e allora l'esempio che io faccio sempre è quello di Genova a Genova c'è un sindaco bravo si chiama Marco Bucci ha avuto un'esperienza manageriale all'estero è stato un bravissimo sindaco è il sindaco delle infrastrutture dall'altro c'hai il centro-sinistra con i 5 stelle che erano quelli che dicevano no alla gronda e ancora oggi stanno litigando sulla gronda volevano bloccare la città perché di fatto lo sviluppo infrastrutturale di Genova fa sì che Genova paradossalmente è tagliata fuori dai rapporti con Milano ed è una follia è isolata poi ci sono tutta una serie di questioni legate alla Liguria 17% delle gallerie europee sono in Liguria quindi la situazione è anche complessa dal punto di vista della conformazione il fatto sta che noi a Genova stiamo con convinzione dalla parte di Marco Bucci ah ma lui è sostenuto anche dalla destra non me ne frega niente viceversa in tanti altri comuni stiamo con il centro-sinistra le dico un nome perché non ne parla nessuno Como Barbara Minghetti è bravissima io spero che recuperi al centro-sinistra la città di Como e vale per Parma per Piacenza per l'Apia eccetera andiamo a Palermo a Palermo la mia idea era candidare uno di Italia Viva Davide Faraone questa candidatura purtroppo è saltata per mille motivi non abbiamo il tempo per affrontarli e si era creata una candidatura civica intorno all'ex rettore che si chiama La Galla che è un uomo dell'Udc moderato una persona sicuramente una persona per bene anziché andare avanti sulla candidatura civica il centro-destra che stava litigando dalla mattina alla sera per le questioni amministrative ha fatto un accordo prendendo la Galla e virgolette mi passi il termine battezzandolo politicamente e a quel punto siamo trovati in una situazione in cui diventavamo parte integrante non di un progetto civico per Palermo ma di un'alleanza dentro il centro-destra siciliano in cui non ci voglio stare perché io con Musumeci Miciche e il del destra siciliano non ci voglio stare io voglio stare su un progetto dove tu metti a posto Palermo dopodiché attenzione il problema di Palermo qual è? che l'ultimo Orlando perché Orlando è stato un bravissimo sindaco all'inizio nell'ultima esperienza di sindaco è stato un disastro non si riesce non si è riusciti per mesi a seppellire le bare a Palermo sentate che sono fuorissimo col tempo voglio chiedere ancora una cosa perché io lo so che tanto lei la politica non l'abbandonerà mai e a me questa R proprio all'incontrario mi inquieta moltissimo nel senso che non mi convince conoscendola è una cosa bella la domanda è noi la ritroveremo ancora la ritroveremo ancora in futuro io penso che la R stia diventando il simbolo di quelli che non si accontentano delle cose che ci sono e le vogliono rovesciare e penso che la vedremo anche in futuro però lei purtroppo c'ha poco tempo ha già dato una notizia no la notizia che ho dato è che Parenzo la mattina alle 8 beve la grappa va sulla grappa e mi parla con la Salvini la notizia è che rovesciare potrebbe essere veramente il nome di una formazione di un movimento rovesciato no non è il nome no diciamo sicuramente però questa R però questa R noi ce l'abbiamo ce l'abbiamo la ritroveremo la R però lui si è rabbia per Salvini ma in realtà appunto per chiudere però nel libro racconto tutta la storia c'è anche il Quirinale lo devo leggere ammetto che ancora non lo ho letto però ti posso le posso dire però nonostante ti perdoniamo c'è tutta la notte del Quirinale lei si è alleato mai come in una sfida come quella dei comuni in cui c'è una legge elettorale meravigliosa che bisognerebbe avere il coraggio di applicare anche per il governo lo so su questo leva lui parla di corda in casa all'impeccata lo sappiamo lei in quel caso lì ha fatto una scelta di campo cioè si è alleato a Genova e lei dice è una questione di persone non di schieramenti però lì ha fatto una scelta di campo cioè si è alleato con il centrodestra quindi con Meloni con Salvini io mi sono alleato con Marco Bucci a Genova come mi sono alleato con Barbara Minghetti a Como come mi sono alleato a Parma a Piacenza però anche fare il sindaco vuol dire fare delle scelte amministrative che possono avere un valore di centrodestra o di centrosinistra no aspetta ha un valore di R è diverso non avete capito nulla ha un valore di R Bucci e Sala erano alla Leopolda e la Leopolda che nel libro viene massacrata perché è una bellissima esperienza dimostra che noi quando si parla di sindaci se non la civile da chi l'ha fatto pensiamo i sindaci si dividono tra quelli bravi e quelli poco bravi Marco Bucci è bravo dopodiché nel libro racconto invece come Salvini abbia sbagliato il calcio di rigore lo dico qui omaggiando anche il calcio visto che da due giorni a Roma non si fa che festeggiare e sono contento perché quest'anno l'ha vinta la Roma la Conference League prossimo anno toccherà un'altra scuola italiana il punto fondamentale è che Salvini aveva un calcio di rigore sul Quirinale a porta vuota ha voluto fare il cucchiaio solo che il cucchiaio riesce a Totti se non ti riesce fa il cucchiaio per te rimanere in piedi fai la figuraccia va bene grazie a Matteo Renzi il mostro tra l'altro inchieste e scandali e dosi come provano a distruggerti l'immagine ma non è l'immagine solo di Renzi questo lo dobbiamo precisare perché è vero ci tengo insomma anche a dirlo non è l'autobiografia tutta sui danni fatti a Matteo Renzi anzi e niente prepariamoci a questa R all'incontrario che continua ora mandiamo la pubblicità e portiamo un po' di grappa a Parenzo che dobbiamo andare dopo la pubblicità parliamo di reddito di cittadinanza rovesciamolo anche quello la R